Ciao a tutti e bentornati a Dovera Gondor, il canale YouTube dedicato al mondo degli LCG. Allora, continuiamo la nostra campagna Have Some Campaign Vol. 1 di Marvel Champions con lo scenario 4 Cherry Bomb. Allora, prima di andare a vedere i gameplay dobbiamo fare delle considerazioni che appunto faremo brevemente, ma giusto per introdurvi alcuni concetti che poi andiamo a vedere durante il gameplay. Allora, lo scenario 4 è Teschio Rosso, quindi dopo aver sconfitto anche abbastanza facilmente la squadra di demolizione, ci ritroviamo Teschio Rosso. Ora, quando ho letto Teschio Rosso ho detto, wow, è tanto che non faccio Teschio Rosso. Mi ricordo che la versione campagna di Teschio Rosso, tutto sommato a questo ricordo, è una versione facile, nel senso che siccome si arriva a fine campagna della scesa di Teschio Rosso con un sacco di potenziamenti, in realtà poi Teschio Rosso, una volta che si riescono a gestire una trama a turno e si ha un modo, diciamo, costante di togliere due o tre segnalini trama, segnalini minaccia a turno, Teschio Rosso non è più una grande sfida. Ho il ricordo in modalità campagna, ho il ricordo invece di averlo giocato stand alone e insomma anche lì non puoi prendere un mazzo qualsiasi perché col fatto che Teschio Rosso ti butta fuori la sua carta, che generalmente non è molto forte, ma fissa una carta, una trama secondaria e alcune sono anche toste, tipo quella del dormiente, quella dello sleeper, beh, allora insomma non è proprio un criminale da prendere alla leggera, no? Quindi con questa idea in mente sono andato a leggere come è composto il mazzo incontro. Il mazzo incontro è dentro Red Skull, ovviamente standard e poi 2-7. La squadra di demolizione e i figli di Thanos. Ora, confesso che mentre i figli di Thanos me ne ricordo e non ho un gran bel ricordo, la squadra di demolizione, sì, l'ho giocata quando ho giocato The Hood, ma insomma non avevo grande, come dire, grande sensibilità sulla forza di questo set, no? Cioè, sapevo che sono i quattro demolitori mischiati nel mazzo e così via, no? Vado a leggermi le informazioni di setup e sostanzialmente nel setup devo andare a mettermi ingaggiato. Il minion che è stato l'ultimo che sono andato a sconfiggere nella partita precedente, che è demolitore. E già qui comincia un po' a cambiare le considerazioni, perché demolitore, che vediamo qui, sostanzialmente è un minion che ha 2-2-8, quindi già abbastanza impegnativo, criminoso, quindi quando questo minion si attiva dagli una carta boost e quando sta attaccando prende più 2 se l'attacco è non difeso. Quindi di fatto sostanzialmente abbiamo un mini boss, perché in solo 8 punti non è che sono molto diversi da quei 12 con cui parte Teschio Rosso, ok? Un mini boss che tra l'altro fa pure più male di Teschio Rosso, perché se lo prende in difeso attacca 4, no? Quindi devo dire che ho avuto un po' di preoccupazione iniziale su questa cosa, considerando che appunto poi mi sono andato a vedere il set e sostanzialmente tutti i demolitori sono minion veramente importanti, oltre a essere elite, sono tutti criminosi, quindi non è che diciamo, vabbè, Bulldozer, sai, sto in alter ego, trama 1, chi se ne frega, no, Bulldozer, trama 1 più la boost card e così via. Quindi preso un po' da questa, come dire, voglia di andare a scavare un po' più a fondo nello scenario prima di impostare la strategia, sono andato anche a vedere i minion dei figli di Thanos, che ricordavo essere abbastanza tosti, devo dire che rispetto alla Wrecking Crew sono più dolci, perché di fatto, sì, hanno delle buone statistiche, ma a parte la Ebony Moe, la Fauci e l'Ebano, gli altri due hanno meno punti vita e non sono soprattutto criminosi. Il criminoso è, secondo me, un elemento estremamente, che è in grado di sparigliare estremamente le carte della strategia, no? Perché, cioè, la prossima mezzanotte, ok, attacca a 3, non è poco, però se so che è 3, so come gestirlo. Invece, l'Ebony Moe, che attacca 1, ma è criminoso, questo può essere un 1, e quindi spreca un difensore per parare un 1, oppure può essere un 4, e invece non ho parato e mi sono beccato 4 danni, no? Quindi ho trovato che il criminoso è piuttosto impegnativo. Red Scala, appunto, nella sua versione standard, perché l'esperto è già ben più impegnativo, nella sua versione standard non ha delle statistiche clamorose, ma ha tutte queste carte, tra cui, vabbè, lo Slipper, altri minion difficili da buttar giù, e carte, invece, un po' più dolci, se vogliamo, cioè nel senso che queste carte qui, in generale, non sono carte che sono così forti. Ecco, guadagnare tagliati, gli dà più carte boost, incitazione 1, metti due minacce su una trama, quindi sì, sicuramente è un nemico di tutto rispetto, soprattutto per il fatto che va a buttare una carta incontro extra, questa carta incontro extra è una trama secondaria, e da lì non si scappa, cioè la cosa bella, su cui in realtà si può anche un po' buildare, è il fatto che Teschio Rosso quello fa, però ero un po' preoccupato dal fatto di avere dei minion molto forti all'interno, soprattutto con il mio Iron Man verde, che abbiamo visto essere davvero forte e performante, ma, insomma, non è che è un mazzo dedicato ai minion, soprattutto quando i minion sono così tosti. Quindi, siccome io ricordavo che la difficoltà di Teschio Rosso erano, di fatto, le trame, ho costruito un mazzo giallo, Iron Man giallo, che è molto performante in linea generale, e ho fatto alcuni run, di cui vi riporto solo i punti salienti di uno di essi. Allora, il mazzo giallo si basa sostanzialmente sulla capacità di Iron Man di andare a rimuovere sempre le trame secondarie, possibilmente confondere il criminale, anche perché la pistola sonica è una tecnologia, e quindi mi aiuta a costruire i pezzi di Iron Man, e ha tanti minion, tanti alleati a basso costo, perché è ben conscio del fatto che i minion picchiano duro, quindi, nel senso, l'idea di questo mazzo è un po' quella di rimuovere costantemente trame per tenere Teschio Rosso basso, di forza, e, diciamo, affrontare i minion, o confondendoli, o facendoli fuori, nel frattempo che costruisco l'armatura. Ok, quindi, come vedete, sono in un discreto controllo delle trame, discreto, diciamo, ce ne sono, ovviamente, però mi trovo il demolitore confuso, con Tony posso intervenire tre, faccio fatica a costruire l'armatura, questo è un po' di fatto quello che succede. Ecco, viene fuori un'altra trama secondaria, che mi fa scartare carte, e mi fa mettere segnalini, tra l'altro, in questo caso, tre segnalini, il che è abbastanza gestibile da Tony, tre segnalini, perché, di fatto, avendo anche l'intuizione eroica, riusciamo a farlo. A questo punto, che cosa succede? Che devo collocare Teschio Rosso trama, colloca tre trame sulla minaccia principale, poi, col diffondere bugie, mi va a collocare altre due trame su ogni trama, due minacce su ogni trama, no? Quindi, insomma, diventa poi abbastanza impegnativo riuscire a gestire tutte queste trame, considerando che siamo già in un punto avanzato della partita, e non ho pezzi di armatura, perché poi, la vera difficoltà che ho riscontrato in questo momento, è stato il fatto che, non riesco, se devo intervenire, di fatto, non riesco a mettere giù pezzi dell'armatura. Quindi, ho fatto vari, vari playthrough, qui decido di tenermi il reattore arc, devo andare a prendermi una carta incontro, perché il reattore arc? Perché potendo stappare toni, con l'intuizione eroica, io vado a togliere sei trame, quindi sei minacce, quindi riesco, bene o male, a gestire quello per cui il mazzo era concepito, cioè andare a gestire gli attacchi, sacrificando i minion, sacrificando gli alleati, e rimuovere minacce dalle trame, no? Questa è un po', è un po' l'idea. Vedete che in mano ho Ironheart, che è utile a fare questo scopo, Wickham, che anche lui è utile a togliere una tramina e poi prendersi un attacco, quindi la strategia era un po' quella, purtroppo però non riesco a mettere giù pezzi dell'armatura, questo è il vero problema. Quindi gioco Ironheart, pesco una carta, Vivian è ottima, perché mi blanca di fatto, il testo di una trama secondaria, in particolare in modo utile col tributo, perché il tributo, quando è sconfitta, mi dà una carta incontro, per cui l'idea che questa sia blancata è molto utile, purtroppo non riesco a tenermi il reattore Ar, che devo mettere giù gli stivali a razza, no? Qui diciamo ancora ci credevo, sul fatto che la partita potesse essere in qualche modo gestita, e chiaramente adesso io di forza di intervento ne ho, perché Eros rimuove due, vabbè Eros viene sconfitto, ma era abbastanza necessario, Tony, che in questo caso diventa eroe, chiaramente con l'intuizione eroica va a rimuovere la minaccia, può mettere in gioco un alleato, per cui adesso mi ricordo se vado a mettere War Machine, lo stesso Cosmo, interessante, perché Cosmo va a scartare carte da un mazzo, e deve dichiarare il tipo di carte, e io dichiaro trame secondarie, scarto dalla trame secondarie, sono sicuro che Cosmo non si prende il danno conseguente, metto in gioco Quasar, perché Quasar? Perché quando entra in gioco mi toglie una minaccia da ogni trama, per cui vado a togliere una dalla trama principale, una da Tributo, una da Chaos di Massa e così via, e quindi, diciamo, il mazzo per fare quello che doveva fare lo fa, il problema è che non è sufficiente, nel senso che io adesso poi, Tony è chiaramente un eroe perché è intervenuto, però vedete che io riesco discretamente anche a rimuovere trame, ma di fatto mi trovo in una condizione scomoda, perché ho un unico pezzo dell'armatura, abbiamo Demolitore che è ancora lì, e che non riesco a fare granché, vado con Vivian a togliere il robusto su Demolitore, giusto per pingarlo e fargli un dannettino, e pescherò due carte, qui c'è sempre Tony in alter ego, ma chiaramente è in eroe, sono solo due carte che sono il fucile sonico e l'energia, e poi vado nel prossimo turno, il problema cosa succede è che nel momento in cui mi entra il dormiente, qui la situazione diventa brutta, perché poi nello stesso turno io mi beccherò l'attacco di Teschio Rosso, l'attacco di Demolitore, l'attacco del dormiente, quindi se io vado a sacrificare tutti gli alleati, di fatto poi non ho più niente in mano, ho un board troppo difficile da gestire con troppi minion, quindi il mazzo giallo funziona molto bene a rimuovere minacce dalla trama, ma non riesce a gestire il board, perché comunque mi ritrovo nel momento in cui ho troppi minion, e i minion sono forti a soccombere. Quindi, dopo aver provato, diciamo, senza successo il giallo, ho deciso di ritornare al verde, il verde che già avevo, come dire, che già abbiamo usato in maniera molto efficace nelle partite precedenti, e quindi ho detto, beh, proviamo insomma a vedere se questo verde, anche se fa un po' fatica a rimuovere minaccia, può funzionare. Ecco, qui la scelta è, stavolta, di tenermi, come vedete già, le tecnologie, perché ho sofferto il fatto di non poter buildare il mio Iron Man, in modo tale da pescare carte. Alla fine, a gira e rigira, nei giochi di carte, la cosa importante è sempre pescare carte, per cui il fatto di non poterlo fare, perché non riuscivo a mettere le tecnologie, mi ha limitato notevolmente. Quindi, vediamo un po' questo gameplay, e alla fine trarremo delle conclusioni per arrivare poi al gameplay finale. Ok. Allora, giochiamo con la forza, andiamo a giocare i guanti, con l'energia e l'altra carta andiamo a giocare il generatore di campo di forza, andiamo in eroe, facciamo subito la scarica repulsiva su il nostro amico demolitore. No, pronti via, la scarica repulsiva gli fa un buon sette danni, il che ci permette poi, col guanto energia, di farlo fuori, nel senso che probabilmente adesso interverrò con Iron Man, e col guanto energia farò fuori il demolitore. Quindi comunque una partenza buona, due pezzi di armatura, due tecnologie, tra l'altro uno è il generatore di campo di forza, quindi comunque mi dà un po' di respiro, per cui un primo turno sicuramente meglio di altri, pesco solo tre carte, che chiaramente non è tantissimo, ma mi permette di non avere il minion ingaggiato, e quindi poi di, come si dice, di andare idealmente in alter ego nel prossimo turno. qui vado a rivelare i campi di prigionia, che è una side quest, eh sì, una side quest, è una trama secondaria, tutto sommato, non malvagia, Teschio Rosso attacca per 2 più 1, 3, e ottiene lo status robusto. Li paro col generatore di campo di forza, e quindi andiamo a prenderci una carta, che è Thunderball. Ora, Thunderball è un altro della squadra di demolizione, criminoso, 3-1, 7 punti vita, che ha quella risposta obbligata che fa danni. Quindi allora, intanto io nel turno vado a mettere giù gli altri guanti energia, in modo tale da arrivare in questo momento a 4 carte in eroe. Qui mi prendo un po' di tempo a pensare cosa fare, no? Decido di togliere la casa rossa, perché comunque Teschio Rosso si gonfia nel momento in cui vado a lasciargli carte trama in gioco, carte secondarie di trama in gioco. Quindi con i due guanti energia faccio due danni a Thunderball, e poi decido di rimanere in eroe pescando 4 carte. Ok? Di rimanere in eroe perché ho paura, insomma, a Thunderball trama anche 3 è criminoso, per cui diventa un po' difficile gestire le trame. Quindi devo mettere il terzo segnalino sui campi di prigionia, cioè sulla scesa del Teschio Rosso per via dei campi di prigionia, e vado a rivelare il caos di massa. Quindi devo scartare 5 carte dalla cima del mio mazzo, e collocare una minaccia su questa carta per ogni tipo di carta scartata. Ah, per ogni icona scartata, e quindi qua c'è tutti e 4, incredibile. Per cui vado a mettere tutti e 4. Poteva andare decisamente meglio, considerando che ho una marea di carte fulmine in gioco, però questo è quello che succede. Quindi Teschio Rosso mi attacca a 2 più niente, che diventa un 3, e quindi mi va a rimuovere il generatore di campo di energia. E poi mi attaccherà Thunderball. Thunderball attacca a 1 più, anche qui prendo 1 più 1, 2, quindi vado a 7, poi Thunderball ha una risposta obbligata che mi fa un danno alla fine. Mi becco una carta incontro che è il criminale trama. Quindi Teschio Rosso trama a 3 più 1, 4, più un'altra carta potenziamento, per ogni gregario di liti in gioco, alla fine insomma va a tramare a 6, e questo lo porta già ad avanzare nel prossimo stadio. Quindi va alla 2b, dove andiamo a rivelare il tributo. Vedete che qui la partita snowball letteralmente, nel senso che in questo turno, avendo pescato Thunderball e tutto, mi sono beccato i danni. Ho perso il generatore, Teschio Rosso si è preso la Luger. Ho in gioco 3 trame secondarie, quindi insomma la situazione non è proprio brillantissima, nonostante rispetto a prima sono riuscito a partire meglio, e soprattutto ad avere più pezzi di armatura fin da subito, che è un po' un elemento interessante. Quindi gioco la scarica repulsiva su Thunderball, dove vado a rivelare sfortunatamente solo 3 danni per la riconversione, quindi va a 5, però questo ce lo porta in range, diciamo, dei guanti di energia. Ok? Ora però qui comincio a fare un ragionamento che poi prenderà corpo di fatto nel prossimo gameplay. Allora, Demolitore e Thunderball hanno 15 punti vita insieme, quindi io ho già tolto 15 punti vita in questo momento. Qui faccio un po' di magheggi, diciamo vado a togliere dalle trame, vado poi in Alter Ego, vado a togliere minacce dalle trame, e andando un po' in Alter Ego posso andare a giocare pezzi. Ecco, qui dicevo, in realtà stiamo già facendo una considerazione, cioè Thunderball e Demolitore mi hanno assorbito 15 danni, andando pure male tra l'altro, perché poteva andare molto meglio, quindi questa è una considerazione che poi a fine partita peserà, perché ricordiamoci che Teschio Rosso ha 12 il primo stadio e 16 il secondo, quindi Teschio Rosso ha 28 danni da far fuori in realtà. Quindi, considerando che ne ho già fatti 15 ai minion, si insinua sempre di più quell'idea che è ma siamo sicuri che vale la pena far fuori i minion, perché in realtà non è che anche questo scenario diventa una corsa a far fuori Teschio Rosso prima che lui faccia fuori te, soprattutto in solo, quando mi ritrovo un secondo boss ingaggiato fin da subito. Ecco qui, vediamo che arriva il tributo, quindi un altro tributo, Teschio Rosso trama 2, 3, 5 in totale, quindi insomma si avvicina a risolvere la sua trama e poi in questo caso esaurisci ogni personaggio che controlli, quindi questo è stato abbastanza benevolo, anche se poi in realtà vedete che faccio un gesto come diremo come tolgo tutte queste trame, perché in effetti come le tolgo, a parte che il Teschio Rosso in questo momento sta attaccando a 4-5, perché c'è la pistola e ci sono 4 trame secondarie in gioco, quindi come dire, vogliamo essere ottimisti e continuare la partita, però realisticamente sarà un po' difficile. Ora qui mi son beccato Gamma Corvi, perché non mi ero dato una carta incontro prima avendo finito il mazzo, quindi abbiamo l'ennesimo Migno Robusto che ha 4 punti vita e che quindi ci costringe di nuovo a fare delle scelte, diciamo che andiamo a vedere le carte, qui ci ritroviamo la barriera di energia, l'intrepido e l'ingegnosità, e qui sì che possiamo nuovamente riuscire a mettere giù dei pezzi di armatura, perché di fatto abbiamo l'armatura elettrostatica, abbiamo la pistola al plasma, abbiamo il generatore di campo di forza, abbiamo la barriera di energia, quindi come dire, al netto delle trame secondarie che stanno esplodendo, il mazzo c'è, ma questo l'abbiamo già visto nelle partite precedenti, che il mazzo c'è, quindi qua vado a mettere giù la pistola al plasma, che comunque è un'armatura, vado subito a usare la pistola al plasma per togliere il robusto da Gamma Corvi, tra l'altro forse qui devo prendermi anche un danno di ritorsione, ah no, perché la pistola al plasma non è un'azione attacco, quindi vado a fare la riconversione, stappo Ironman, e Ironman gli faccio ottenere più 2 a una statistica, quindi qui decido cosa faccio, intervengo, non intervengo, tolgo, non tolgo, ci sto pensando, vado a togliere il caos di massa, perché io sto intervenendo a 4, poi con il reattore ARC potrò andare a stapparlo, quindi posso andare a reintervenire, vado a reintervenire sul tributo, e mi beccherò una carta incontro, anche perché le minacce sulla trama principale sono alte, per cui non è che posso completamente sottovalutare questa cosa, anzi, vado poi a giocare il pugno supersonico, per far fuori gamma corvi, e qui arriviamo a 19 punti di minion, tolgo il robusto a teschio rosso, 19 nel senso che sono 19 i danni che io ho fatto ai minion in questa partita, ricordiamo che teschio rosso ha 28 punti vita, ok? A questo punto io qui pesco solo 4 carte, perché ho 4 armature, purtroppo ho una carta incontro, teschio rosso trama e ne mette su 2, per cui va a 10 di fatto, poi entra in gioco il dormiente, la situazione qua chiaramente diventa durissima col dormiente in gioco, perché il dormiente è massacrante, anche se ovviamente i guanti ci aiutano a togliere il robusto, però guardia, insomma, la situazione è un po' è un po' difficile, teschio rosso attacca tantissimo, perché attacca 1, 2, 3, 4, 5, e in più ci sono anche i 3 del dormiente, per cui di fatto la partita è conclusa, proprio perché non riesco a gestire così tanti attacchi, quindi il dormiente è stato fatale in questo momento, ma comunque il board non era semplice, e questo ci porta alla considerazione con la quale poi entreremo nell'ultimo gameplay. Io ho speso 19 danni di attacco sui minion, per cui non posso permettermi con 28 punti vita di teschio rosso di approcciare lo scenario in questo modo. Quindi quello che rimane da fare è fondamentalmente fregarsene dei minion e correre, correre, fare tutti i danni possibili a teschio rosso, questo non è così semplice, ho dovuto fare diverse partite, ma finalmente siamo riusciti ad arrivare al gameplay definitivo, cioè quello che mi permette di riuscire a fare quello che abbiamo detto. Quindi adesso vediamo questo gameplay, la logica è stata, sono partito dal giallo perché pensavo che tramare fosse importante, ma non riuscivo a gestire i minion, sono tornato al verde, riesco a gestire i minion, ma di fatto non riesco a portare a casa lo scenario, quindi quello che mi rimane da fare è provare a fregarmene dei minion, provare a fregarmene delle trame, e cercare di fare i danni a teschio rosso, quindi ho riempito il mazzo il più possibile di carte con il simbolino fulmine, cosa che già peraltro era così, e l'idea sarà proprio un po' quella di corcare di botte teschio rosso, resistendo il più possibile, per vincere lo scenario prima che lui ci faccia fuori. Qui gioco Iron Heart, in modo tale che mi fa pescare una carta, è fondamentale far fuori subito la casa rossa, perché altrimenti non riesco a fargli danni, abbiamo spescato una scarica repulsiva in prima mano, che sarà quella che scatenerò subito contro teschio rosso, qui sto pensando cosa fare, mi conviene fare il reattore arco, mi conviene mettere giù il generatore di campo di forza, alla fine farò il generatore di campo di forza, perché poi me ne prenderò di danni, quindi di fatto è una gara, questa diventa una gara, grazie Iron Man e Iron Heart vado a rimuovere la casa rossa, che impedisce a teschio rosso di prendere danni, quindi quello che comincio a fare adesso è scaricare repulsiva, boom, chiaramente spero di beccare più fulminini possibili, non è male, ne becco tre, quindi gli faccio sette danni di fatto, che però non sono male sette danni, perché da dodici va a cinque, e quindi come dire, questa cosa ci aiuta, tra l'altro Iron Man pesca tantissimo in alter ego, per cui non è improbabile che io vada a prendere proprio le carte che mi servono, in questo caso sono fortunato, pesco un'altra scarica repulsiva, nonostante abbia pescato solo due carte, e entriamo nella fase del criminale, quindi mettiamo uno su, teschio rosso rivela il tributo come trama secondaria, quindi quando sconfitta distribuisce una carta incontro, la faccia in giù è il giocatore che ha sconfitto questa trama, e quindi come dire, ti tolgo una trama ma ti do una carta, per cui il tributo è fastidiosa, poi attacca, attacca uno più uno due, perché attacca solo a uno della trama secondaria, più uno con un potenziamento, questo il generatore di campo di forza ci aiuta in questo senso, e poi il demolitore attacca, io lo paro, in modo tale che non prenda più due, e sostanzialmente mi dice scarta un alleato supporto che controlli, questo purtroppo ci fa scartare iron art, però in realtà ci fa prendere solo un danno, due contro uno della difesa è solo un danno, ok, quindi il generatore di campo di forza regge, riveliamo una carta che è lo stratega supremo, che quando teschio rosso si attiva, gli da un numero di carte potenziamento, pari al numero di trame in gioco, quindi è una carta che può facilmente andare fuori controllo, io gioco la scarica repulsiva su teschio rosso, andando a rivelare, tra l'altro subito, gli farei sette danni, perché ho sei concine fulmine, questo ci porta nel prossimo stadio, dove teschio rosso ha statistiche più alte, 16 punti vita, e quando è rivelata distribuisce una carta incontro, al primo giocatore, vado chiaramente in alter ego, vado ad aggiustare i punti, adesso qui faccio un po' di casino aggiustando i punti, ma poi ci arriviamo, ovviamente mi aspetto facilmente che teschio rosso prosegua, come trama, qui prima gli metto i punti vita a lui, poi a me, poi dico no, attenzione ho sbagliato, mi aspetto facilmente che la trama principale avanzi, qui come detto è una corsa, purtroppo non ho tempo di poter stare a rimuovere minacce dalla trama, ma quindi io sono sempre a 9 punti vita, e teschio rosso la seconda fase è a 16 punti vita, quindi andrò a pescare 6 carte, ho il pugno supersonico che non è male, pesco la terza scarica repulsiva, chiaramente qui ci sta girando bene, visto il numero di gameplay vi posso dire che non sempre gira così, ma ogni tanto si riesce, ora è come dire, con Iron Man tra l'altro è molto facile questo, perché in 2-3 turni tu riesci a millare tutto il mazzo, ora teschio rosso butta dentro i campi di prigionia, che è una carta tutto sommato benevola, come side quest, perché una volta che è sconfitta ci andiamo a prendere un alleato, ma non è quello che vogliamo fare in questo momento, poi lui si attiva, avendo lo stratega supremo andrà a ottenere, oltre al suo carta potenziamento, altre 2 carte potenziamento, per cui tramerà 3 più 3 carte potenziamento, ovviamente questo significa che andremo sicuramente alla prossima trama, abbiamo scarta un alleato supporto che controlli, fortunatamente non controllo supporto in alleati, però lui trama di 7 di fatto, e questo lo fa avanzare nel prossimo stadio, scartando stratega supremo. Entriamo nel prossimo strato, dove dobbiamo rivelare una carta dalla cima del mazzo, abbiamo qui i rinforzi dell'Hidra, che ci dà una carta incontro in più, vedete il gesto di stizia, dovuto al fatto che pensavo che anche questo gameplay sarebbe andato male, demolitore tra l'altro si attiva ed è criminoso, per cui farà 2 più niente, fortunatamente quindi solo 2, e ce ne saranno 3 sul nuovo ordine dell'Hidra, 1 di quello di partenza e 2 di demolitore. Poi mi devo dare una carta incontro, ma poi mi dovrò dare un'altra carta incontro, per i rinforzi dell'Hidra, quindi dovranno essere 3 queste carte incontro che vado a prendere, adesso me ne accorgo. Quindi la Luger, che lo potenzia, questa tutto sommato in questo momento mi va bene, anche se ottiene distanza e perforazione, Bulldozer, ennesimo minion, che praticamente è un boss, perché è criminoso, e poi il criminale trama, e qui la situazione è un po' critica, perché Teschio Rosso trama a 4, e quindi di conseguenza 4 più 3, 7, e 4 più 3, 7 ci porta a 10, 10 su 11. Tra l'altro questi maledetti della squadra di demolizione, hanno un sacco di icone anche, quindi è veramente un set tosto. Ora, Teschio Rosso è a 16, e quindi qui la situazione, e dobbiamo capire com'è, non è impossibile, pesco riconversione, che è probabilmente la carta, che me ne accorgo quasi subito, che mi farà vincere la partita, scartando il generatore di campo di energia, perché? Perché se sono fortunato con la scarica repulsiva, e poi comunque ho anche il pugno supersonico, posso riconvertire il generatore, per far attaccare a Iron Man a 4, per cui c'ho un po' di danno in mano, adesso la matematica non l'ho fatta, perché stavo giocando, però se la scarica repulsiva è buona, poi mi ritrovo verosimilmente altri 8 danni in mano, perché ho il generatore di campo di forza, e il pugno sonico. Quindi attacco il teschio rosso, rivelando 5 carte, 1, 2, 3, 4 e 5, vedete qui il momento sfogo, riesco a beccare 5 iconcine fulmine, che gli fanno 11 danni, 11 danni lo portano a 5, e no, lo portano a, sì a 5, corretto, lo portano a 5, e di conseguenza la partita è finita, perché io posso sia attaccarlo a 4, sia con Iron Man attaccarlo a 1, e poi riciclare il generatore di campo di energia, per poi attaccarlo a 4, che è quello che farò, no? Quindi in questo momento in realtà io cosa faccio? Allo attacco Iron Man, lo attacco, sto facendo i conti se è giusto quello che ho scartato, perché voglio essere certo che questa sia una vittoria legale, e così effettivamente è, con Iron Man vado ad attaccarlo, lo mando a 4, e poi con la riconversione, scarto, generatore di campo di forza, stappo Iron Man, che ottiene più 3, una statistica che è evidentemente l'attacco, e quindi lo vado a far fuori. Quindi, come dire, non è stata una partita strepitosa, perché è finita al terzo turno, però mi è piaciuta l'evoluzione, l'evoluzione che ha portato il cambio di colore, ma soprattutto il cambio di approccio. Chiaramente far fuori demolitore bulldozer avrebbe allungato troppo la partita e sarebbe stato impossibile. Quindi, diciamo, mi è piaciuta il fatto che ho dovuto fare tutti questi ragionamenti, una cosa bella, positiva, dà valore alla campagna. Ho trovato un po' sbilanciato questo scenario in solo, perché partire già con demolitore in gioco lo trovo troppo, troppo forte. Di fatto tu giochi contro due boss, e soprattutto tutti i vantaggi che hai acquisito in campagna li vai a spendere solo alla fine, e alla fine della campagna per il prossimo scenario che è Thanos. E quindi questa cosa qui ho trovato uno spike di difficoltà in teschio rosso troppo alto, perché adesso voi vedete un video di mezz'ora, ma in realtà c'è avuto parecchio tempo per arrivare a batterlo, parecchi gameplay, al limite quasi della frustrazione, perché, come dire, dovevi fare la pescata giusta, dovevi andare a prendere la scarica repulsiva, e qui ne ho pescate tre, forse ce l'avrei fatta anche senza una di quelle scariche repulsive, però insomma, vedete poi tra l'altro i minion che abbiamo in gioco, adesso li sto mettendo in gioco così giusto per vederli, sono tutti dei pezzi veramente, veramente grossi. E quindi questa cosa l'ho trovato un po' troppo sbilanciato, teschio rosso in solo, probabilmente già in due o tre giocatori partire con un minion ingaggiato non è così drammatico, ma in solo, soprattutto, un minion della squadra di demolizione è davvero, davvero devastante. Quindi, ci aspetta il prossimo scenario che è Thanos, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse, iscrivetevi al canale, fate iscrivere i vostri amici appassionati, è un modo per rimanere aggiornati, e anche far crescere il canale e la community anche di Marvel Champions, e non solo del signore Diannelli LCG. Salutiamo teschio rosso, ci affacceremo a Thanos, grazie, ciao, alla prossima.